Continua a Teramo il caos e la polemica sulla ZTL, le nuove telecamere installate e questa volta ad essere colpiti sono gli invalidi. Il Comune di Teramo è in una fase di predisesto, lo diciamo oramai da tempo, ha una passività di circa 27 milioni, non sa più cosa inventarsi. Io sono d'accordo sul mettere una zona di traffico limitato in una parte della città, ma prima di mandare le contravvenzioni è necessario effettuare una corretta comunicazione. Ora a colpire di queste contravvenzioni, come sappiamo ne sono migliaia, sono coloro che sono portatori di toni invalidi, quindi portatori di handicap che avevano e che hanno ancora oggi l'autorizzazione ad accedere liberamente nella città. Ora questi soggetti pensavano che nonostante con questa autorizzazione potevano tranquillamente accedere anche nelle nuove zone di traffico limitato. Nessuna informazione è stata mandata dal Comune per dire loro che in realtà avrebbero dovuto anche iscrivere i mezzi nelle cosiddette liste bianche in base al nuovo regolamento per evitare di prendere contravvenzioni. Per questo motivo ogni portatore di handicap, ogni invalido che aveva questa autorizzazione è passato lungo questi varchi decine e decine di volte in questi mesi. E oggi sono arrivati decine e decine di contravvenzioni, cominciamo a parlare di somme che arrivano a circa 1000 euro, 1500 euro. Ora bisogna che queste contravvenzioni vengano annullate perché non si può far pagare, far cassa sulle spaglie dei più deboli, soprattutto dei soggetti portatori di handicap invalidi.